Roberto, partiamo da una cosa molto bella, esordio a titolare, i primi punti a referto in questa stagione. Ovviamente immagino che la condizione non possa essere ottimale, ma rivederti anche in prima linea, dopo gli esordi al servizio, ci hai fatto molto piacere. Sì, sono felice di poter tornare a giocare. Sicuro la forma, come detto tu, non è quella ottimale, però per raggiungere la forma bisogna stare in campo, bisogna essere allenati. Però ecco, sono molto felice per questo. Senti, parliamo della partita, la partita dura, lo sapevamo, Padova è una squadra che gioca bene a pallavolo, abbiamo faticato, abbiamo dovuto lottare, sono tre punti però questi molto importanti. Non sempre si può giocare al 100%, è importante portare a casa la vittoria anche quando non si è al 100%. Sì, sapevamo che loro giocano bene, sono ragazzi giovani che hanno voglia di fare, però l'importante è quello che siamo riusciti a avere i tre punti. Poi il gioco bisogna migliorarlo, questo lo sappiamo, però partiamo dal fatto che abbiamo vinto e torniamo a Perugia con i tre punti.